Investire con successo non richiede un qui stratosferico, informazioni privilegiate o fortuna. Invece ciò che serve è una solida struttura intellettuale per prendere decisioni, combinata con la capacità di impedire alle emozioni di rovinarla. In The Intelligent Investor, Benjamin Graham presenta un tale quadro insieme a una logica che ti aiuterà a tenere sotto controllo le tue emozioni. Probabilmente la sua strategia di investimento è stata una delle più riuscite degli ultimi cento anni. I record impressionanti, non solo dello stesso Graham, ma anche di numerosi suoi discepoli, sono impossibili da ignorare. Tra questi la stella più brillante è Warren Buffett, che al momento della realizzazione di questo video è il terzo uomo più ricco del mondo. Warren Buffett si riferisce a questo libro come di gran lunga il miglior libro sugli investimenti mai scritto. Ecco a voi quelli che ritengo essere i migliori spunti di questo libro. Benvenuto in direzionecrescita.com, il primo canale di crescita personale in Italia, dove ogni giorno vieni guidato verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se ancora non lo sai già iscriviti ed attiva le notifiche così da rimanere aggiornato su ogni nuovo video che pubblichiamo. Punto numero 1. Incontra Mr. Market. Immagina di possedere una parte di un'azienda per la quale hai pagato 1000 dollari. Ogni giorno una certa persona bipolare chiamata Mr. Market viene a casa tua con un'opinione su quanto vale la tua parte in quel business. Inoltre si offre di acquistare la tua quota o di vendertene un'altra su tale base. La storia ha dimostrato che l'opinione di Mr. Market su quanto vale la tua parte del business può essere pura sciocchezza. Ad esempio nel marzo 2000 ha stimato il valore della tua quota a 2600 dollari. Solo un anno dopo, nel marzo 2001, pensava che valesse 500 dollari. Anche se l'arredito della società è aumentato del 50% e l'utile è aumentato del 20% nello stesso periodo, dovresti lasciare che questo tizio decida quanto vale il tuo interesse per 1000 dollari in quell'attività? Ovviamente no! Uno dei principali fondamentali di Graham è che un titolo non è solo un simbolo combinato con un cartellino, con sul prezzo, è un interesse di proprietà in un'impresa. E dato che Mr. Market non è sempre razionale, il valore sottostante dell'attività può differire dal prezzo che è disposto a pagare per essa. In effetti, spesso è troppo o sottovalutato poiché Mr. Market diventa facilmente troppo ottimista o al contrario troppo pessimista. Graham ti consiglia di investire solo se ti sentirai a tuo agio a detenere le azioni in futuro senza vedere i prezzi fluttuanti che Mr. Market ti presenta. Ma per l'investitore che riesce a mantenere la calma, Mr. Market presenta una grande possibilità di fare soldi. Perché non ti costringe a fare un patto con lui, ti offre semplicemente l'opportunità di farlo. Dovresti essere felice di vendergli quando offre prezzi che sono ridicolmente alti, e allo stesso modo dovresti essere felice di comprare da lui quando ti presenta degli affari. Dobbiamo considerare che all'epoca in cui Graham scrisse questo libro, la gente era molto meno bombardata di notizie, previsioni, quotazioni azionarie e così via rispetto a oggi. Tornando agli anni 70, Mr. Market arrivava forse una volta al giorno, assieme al giornale del mattino. Oggi vuole fare affari con noi ogni volta che apriamo il nostro telefono. Che, se sei come me, sono più di 100 volte al giorno. Ma solo perché Mr. Market ti visita più spesso, non significa che devi commerciare con lui più frequentemente di quanto le persone dovessero fare negli anni 70. Se non ti presenta un'offerta che soddisfa i tuoi standard, ignoralo e vai avanti con la tua giornata. Punto numero 2. Come investire come l'investitore difensivo. Ci sono due tipi di investitori, secondo Graham. Il difensivo, o passivo, e quello intraprendente, o attivo. La maggior parte delle persone è più adatta alla strategia difensiva, considerato che il tempo che sono disposti a dedicare all'investimento è limitato. L'investitore difensivo dovrebbe creare un portafoglio con una combinazione di obbligazioni azioni, diciamo 50% azioni e 50% obbligazioni. Da notare che quello che dovresti dedicare a ciascuna categoria di attività dipende dalla tua situazione e dalla differenza attuale nel rendimento medio di azioni contro obbligazioni. Ripristina questa allocazione una o due volte all'anno, in modo che se le azioni costituiscono improvvisamente il 60% del portafoglio rispetto al solo 40% delle obbligazioni, vendi azioni e compro obbligazioni, fino al ripristino del 50 e 50%. Investi un importo fisso di capitale a intervalli regolari, ad esempio subito dopo aver ricevuto lo stipendio. Questa è chiamata media del costo in dollari e consentirà un prezzo medio equo di azioni e obbligazioni. Soprattutto ti assicurerà di non concentrare i tuoi acquisti nel momento sbagliato. Per la componente azionaria del portafoglio l'investitore difensivo dovrebbe mirare ai seguenti 8. 1. Diversificazione delle società in cui investe. Un numero tra 10 e 30 dovrebbe essere adeguato. Inoltre assicurati di non essere sovraesposto a un singolo settore. 2. Le aziende dovrebbero essere grandi che, come dice Graham, debbano generare più di 100 milioni di vendite annuali. Dopo l'inflazione questo equivale a circa 700 milioni di dollari nel valore di oggi. 3. Cerca aziende che sono finanziate in modo conservativo. Tale società ha un cosiddetto rapporto corrente di almeno 200%. Ciò significa che le sue attività correnti sono almeno il doppio delle sue passività correnti. 4. Il dividendo dovrebbe essere stato pagato agli azionisti per almeno gli ultimi 20 anni. 5. Nessun deficit di reddito negli ultimi 10 anni. 6. Almeno il 33% di crescita degli utili negli ultimi 10 anni. Ciò si traduce in una crescita conservativa del 2,9% annuo. 7. Non pagare troppo per i beni. Il prezzo del titolo non deve essere superiore a 1,5 volte il suo valore patrimoniale netto. Il valore patrimoniale netto può essere calcolato sottraendo le passività della società dalle sue attività. 8. Non pagare nemmeno troppo per i guadagni. Non lasciare che il rapporto PE sia superiore a 15 quando si utilizzano i guadagni degli ultimi 12 mesi. Un'alternativa oggi è investire in un fondo indicizzato che per definizione avrà rendimenti simili alla media del mercato. Se sei soddisfatto di una ricompensa media attraverso il tuo investimento hai solo bisogno di questi due primi punti. Tuttavia se sei affamato di informazioni dovresti anche considerare... Punto numero 3. Come investire come investitore intraprendente. Poiché è così facile per l'investitore difensivo ottenere il rendimento medio del mercato, sembrerebbe un gioco da ragazzi battere il mercato. Dedichi solo un po' più di tempo agli investimenti rispetto a quello degli investitori medi, giusto? Essere un investitore intraprendente e battere il mercato è molto più impegnativo, proprio come la logica ci suggerisce. Richiede pazienza, disciplina, voglia di imparare e molto tempo. Ad esempio molti professionisti e investitori privati non sono adatti per questo. È molto più facile essere vittima delle quotazioni di Mr. Market di quanto si possa immaginare. Basta ascoltare queste due affermazioni dei primi anni 2000 al culmine della bolla delle dotcom fatta dal capo stratega degli investimenti in due grandi fondi comuni di investimento. È un nuovo ordine mondiale. Vediamo persone scartare tutte le aziende giuste, con tutte le persone giuste, con le giuste visioni, perché il loro prezzo delle azioni è troppo alto. Questo è l'errore peggiore che un investitore possa fare. Il mercato azionario è più rischioso oggi rispetto a due anni fa semplicemente perché i prezzi sono più alti? La risposta è no. Ma la risposta è sì, 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 naturalmente. Entrambe le dichiarazioni si sono rivelate costose per gli investitori che hanno investito i loro soldi in questi fondi. Poiché i profitti che le aziende possono guadagnare sono finiti, anche il prezzo che l'investitore intelligente dovrebbe essere disposto a pagare per queste società deve essere finito. Il prezzo è davvero un fattore importante per l'investitore intraprendente. Esattamente come il mercato tende a sopravvalutare le aziende quando sono cresciute rapidamente o sono glamour per qualche altro motivo, tende a sottovalutare quelle con sviluppo insoddisfacente. L'investitore intelligente dovrebbe quindi cercare di evitare il più possibile i cosiddetti stock di crescita. Come mai? Perché la decisione di investimento si basa relativamente di più sui guadagni futuri e i guadagni futuri sono meno affidabili delle valutazioni attuali. Se invece riesci a trovare un'azienda che ha un valore inferiore al suo capitale circolante netto, essenzialmente non paghi nulla per tutte le immobilizzazioni, come edifici, avviamenti macchinari eccetera. Il capitale circolante netto può essere calcolato sottraendo le passività totali dalle attività correnti. Tali società si sono dimostrate veramente arredditizie durante la carriera di investimento di Graham. Sfortunatamente sono rari oggi, tranne durante i mercati tosti. Fortunatamente Graham suggerisce un metodo aggiuntivo per trovare investimenti per l'investitore intraprendente. Questi criteri sono simili a quelli che dovrebbero utilizzare gli investitori difensivi, ma i vincoli sono più flessibili, consentendo all'investitore intraprendente di prendere in considerazione più società. Da notare che non vi ha alcun vincolo per quanto riguarda le dimensioni dell'azienda. Inoltre dovrebbe essere applicata una certa diversificazione, ma il numero di società detenute non è scolpito nella pietra per l'investitore attivo. Nell'analizzare un'azienda, l'investitore intraprendente dovrebbe anche studiare i suoi rapporti finanziari annuali. Graham ha scritto un intero libro su questo argomento, chiamato The Interpretation of Financial Statements. Dovremmo approfondire in un'altra occasione. Punto numero 4. Insistere su un margine di sicurezza. C'è un rischio che nessuna attenta considerazione può davvero eliminare, il rischio di sbagliare. Tuttavia puoi ridurre al minimo questo rischio. Per farlo devi insistere sul fatto che ogni investimento che fai ha un margine di sicurezza. Come menzionato in precedenza, il prezzo e il valore di un'azienda non sono sempre gli stessi. Quando il prezzo è al massimo due terzi del suo valore calcolato, l'investitore ha trovato un'azienda con abbastanza margine di sicurezza. Non faresti una nave che affonda se 31 vichinghi vi si imbarcassero, se sapessi che verrebbe usata per trasportarne regolarmente 30. Non dovresti investire in azioni che ritieni valgano diciamo 31 dollari se attualmente hanno un prezzo di 30. Potrebbe essere che il tuo calcolo sia sbagliato. Nel primo caso un gruppo di arrabbiati e bagnati vichinghi potrebbero volerti parlare. Nel secondo potresti posticipare la tua libertà finanziaria di un paio d'anni e francamente non so quale situazione considererei peggiore. Usare i margini di sicurezza. Una formula utilizzata nel libro può darti qualche indizio su quale sia il valore di un'azienda e quindi anche se può essere acquistata con un margine di sicurezza. Valore uguale guadagno annuale normale per 8,5 più 2 per tasso di crescita annuale previsto. Il tasso di crescita dovrebbe essere uguale al tasso di crescita annuale dei utili per i prossimi 7-10 anni. Punto numero 5. Rischio e rendimento non sono sempre correlati. Secondo la teoria accademica il tasso di rendimento che un investitore dovrebbe aspettarsi deve essere proporzionale al grado di rischio che è disposto ad accettare. Il rischio viene quindi misurato come la volatilità dei rendimenti dell'investimento il che significa quanto è storicamente diverso dal suo valore previsto. Ma Graham non è d'accordo con questa affermazione. Invece sostiene che il prezzo e il valore delle attività spesso sono sconnessi. Pertanto il rendimento che un investitore può aspettarsi è un'equazione di quanto tempo impegno porta nella sua ricerca di affari. Il rendimento minimo va all'investitore difensivo o passivo mentre il massimo va all'investitore intraprendente che esercita massima intelligenza e abilità. Considera questo. Sono le 4 del mattino e sei uscito a bere per le strade di Mosca insieme ai tuoi amici. Decidi che, sai no, è troppo presto per rincasare e quindi ti perdi nelle strade più buie della città. In un bar particolarmente losco vieni avvicinato da un tipo che ti fa. Ti va di fare un gioco? Beh, certo, i giochi sono divertenti, risponde il tuo amico più coraggioso e meno sobrio. L'uomo ti mette davanti una rivoltella caricata con un solo proiettile. Ti darò 10.000 dollari se la prendi e fai un tentativo. Roulette russa. E il tuo amico ubriaco prende la pistola ma tu lo fermi. Penso che per questa volta passeremo, fai educatamente all'uomo. Lo immaginavo, risponde. Che ne dici di 100.000 dollari per due tentativi. Ora, questa storia rappresenta il modo accademico di chiedere una ricompensa potenziale più elevata per l'assunzione di un rischio più elevato. Nella prima offerta avresti ricevuto 10.000 dollari con il 16,7% di rischio di farti saltare le cervella. Nella seconda offerta la ricompensa è di 100.000 dollari perché il rischio di farti un buco in testa è aumentato al 33,3%. È logica, no? Ma gli investimenti in borsa non devono necessariamente essere così. Ricorda che prezzo e valore non sono la stessa cosa. Quando compri un'azienda a 60 centesimi di dollaro hai una grande ricompensa potenziale e un rischio basso. Inoltre se riesci a trovare un'altra azienda che puoi acquistare a 40 centesimi di dollaro hai trovato una migliore ricompensa potenziale combinata con un rischio ancora più basso. Come potrebbe qualcuno sano di mente sostenere che è più rischioso comprare un dollaro al prezzo di 40 centesimi che comprarne una 60 centesimi solo perché la potenziale ricompensa è più alta. Un veloce riepilogo dei 5 punti. In primo luogo il mercato tende a essere di tanto in tanto troppo temista e troppo pessimista. Non lasciare che questo influenzi ciò che pensi sia il vero valore dei tuoi beni. Invece considera la comune opportunità di business dove hai a che fare con una persona che non ha idea di quello che sta facendo. Per secondo l'investitore difensivo dovrebbe optare per un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni in cui la categoria di azioni consiste principalmente di emissioni a basso prezzo. In terzo luogo invece anche l'investitore intraprendente dovrebbe puntare su azioni che mostrano tendenze di prezzo più basse. Se riesce a trovare una società che opera al di sotto del suo capitale circolante netto avrà trovato il suo Eldorado. Il quarto punto è che l'investitore intelligente dovrebbe insistere su un margine di sicurezza quando acquisisce un bene. E infine il punto numero 5 dice che rischio e ricompensa non sono necessariamente correlati. Cosa ne pensi dell'idea di Graham? La si può applicare ancora oggi come la si poteva applicare negli anni 70? Condividi i tuoi pensieri con gli altri nella sezione commenti qui sotto. Come al solito se vuoi che riassuma un libro su investimenti, finanza personale o gestione del denaro? Per favore fammelo sapere con un commento. E se trovi che uno dei suggerimenti di questo libro sia particolarmente interessante e vuoi che lo approfondisca non essere timido fammelo sapere. Grazie ragazzi per aver guardato e buon proseguimento. Grazie a tutti.